Musica Amici di TV Gargano Buonasera e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con la salute a 360 gradi Ricordo che appunto il format da me condotto Giulia Rita Donofrio è stato ideato da Luigi Mossuto che è storico conduttore della nostra emittente televisiva TV Gargano Questa sera ho il piacere di avere come ospite di interloquire con il dottor Nicola Tricarico Otorino a cui vado a dare subito il benvenuto nei nostri studi Grazie dell'invito, veramente è stato molto gradito e un cordiale saluto di benvenuto a tutti i telespettatori e alle telespettatrici, grazie Grazie dottore, io presento brevemente il nostro professionista che per ben 40 anni ha lavorato presso la divisione di Otorino Laringoiatria da prima in qualità di assistente quindi di dirigente medico di struttura presso l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza Dal 2021 svolge anche attività di libera professione come Otorino nel suo studio a San Marco in Lamis è membro di prestigiose società scientifiche ha frequentato naturalmente nel corso della sua lunga carriera corsi di perfezionamento presso prestigiosi centri in Italia ed all'estero ha svolto altresì attività di docenza ed è autore di numerosi lavori scientifici e della branca Otorino Laringoiatrica si interessa prevalentemente argomento che tratteremo a breve delle patologie dell'orecchio in particolare della sordità per cui ha eseguito anche migliaia di interventi chirurgici il dottore dal 1986 è anche socio del Lions Club International Dottor Tricarico allora io ho anticipato brevemente l'argomento di questa sera che è appunto la sordità nell'anziano e naturalmente le sue implicazioni negative a livello dei rapporti sociali quali sono dottore le cause più frequenti di sordità nell'anziano? Bene, grazie di nuovo per l'invito e che mi dà la possibilità di poter trattare e affrontare un argomento che a me è sempre stato molto a cuore e che ha contribuito come diceva lei prima in tutti questi anni il motivo di interesse professionale e anche di attività nei confronti delle persone bisognose a questo riguardo bene, entriamo subito nell'argomento sordità in realtà non è un termine corretto sarebbe più corretto parlare di ipoacusia perché per sordità intendiamo un'assenza totale dell'udito invece il termine più corretto sarebbe ipoacusia e l'ipoacusia può essere di diversi gradi di grado lieve, moderato, grave e profondo quindi ovviamente le varie tipologie di ipoacusia influenzeranno poi quelle che sono le conseguenze negative che si svilupperanno rapidamente perché ho scelto l'argomento diciamo la sordità parliamo di sordità per semplicità e anche per essere diciamo maggiormente comprensibile all'uditorio perché ho scelto la sordità nell'anziano? perché con l'aumentare della vita media e con tutti i fattori di rischio che man mano enuncieremo fra un poco il livello di diminuzione dell'udito colpisce sempre più frequentemente le persone di una certa età è stato calcolato da una statistica di qualche anno fa che in Europa le persone che hanno più di 60 anni sono circa il 52% ovviamente se noi proiettiamo le aspettative di vita della popolazione attuale si è calcolato che nel 2050 questo numero salirà progressivamente vertiginosamente quindi è stato calcolato che 80 milioni di persone nel 2050 over 60 anni saranno colpite da questa patologia così invalidante a volo dico che le conseguenze della diminuzione dell'udito saranno differenti a seconda dell'età in cui colpisce la patologia cito un esempio un esempio molto così intuitivo e frequente per esempio un bimbo che nasce completamente sordo perché questo poi mi serve per introdurre un altro concetto un bimbo che nasce completamente sordo avrà una sordità tipo congenito o ereditaria e non potrà acquisire il linguaggio questo perché perché l'udito il sentire è una condizione sine qua non per acquisire il linguaggio per cui una volta c'erano i cosiddetti bambini sordomuti oggi grazie a Dio si possono curare questi bambini però è importante sottolineare il concetto che l'udito è fondamentale per acquisire il linguaggio ma non solo per acquisire il linguaggio è fondamentale per lo sviluppo delle capacità intellettive cognitive della memoria quindi tutte quelle funzioni cerebrali superiori ecco perché una sordità che insorge nel bambino porterà al mutismo o ai disturbi del linguaggio una sordità che invece insorge si chiama presbiacusia in un soggetto anziano porterà a tutta una serie di conseguenze a livello cerebrale che diremmo fra poco bene dottor Tricarico quali sono i sintomi sempre relativamente all'argomento che stiamo trattando sordità ipoacusia che devono allertare il paziente devono allertare il paziente ecco abbiamo detto che una ipoacusia o una sordità che colpisce l'adulto anziano prende il nome di presbiacusia presbiacusia cos'è? è una condizione ahimè diciamo quasi quasi fisiologica fisiopatologica perché è dovuta all'invecchiamento non solo dell'orecchio ma di tutte quelle strutture nervose che poi fanno sì che come dicevo prima si possano sviluppare le funzioni superiori quindi parliamo di presbiacusia che però colpisce in maniera diciamo differente i vari soggetti tant'è che oggi è invaso il concetto di sensibilità o di predisposizione cioè se lei prende due sessantenni ultra sessantenni non tutte e due sani per il resto sani che non hanno altre patologie non tutte e due avranno gli stessi gli stessi sintomi sintomi che cito l'esempio che spesso mi viene detto dai pazienti che afferiscono al mio studio dicono dottore ma io non è che non ci sento io non capisco le parole sento i rumori ma non capisco le parole e questi sintomi affiorano soprattutto in alcuni ambienti tipo la donna che va in chiesa mi dice dottore io non riesco a sentire la predica del sacerdote oppure capisco una parola sì e una no oppure quando vado al bar al ristorante che ci sono i rumori ambientali spesso non riesco a capire quello che mi dice l'interlocutore che è di fronte a me altro sintomo poi è curioso i duetti che si vengono a stabilire in studio fra marito e moglie o fra papà e figlio e nipote dici ma tu alzi il volume del televisore ma com'è non ci senti e lui risponde no io ci sento soltanto che non riesco a capire a capire le parole ecco quindi da quello da questi esempi così un po' curiosi si capisce bene quello che è il sintomo di una sordità che insorge nel soggetto adulto che non è tanto la riduzione dell'acuità uditiva ma il fatto di non riuscire a percepire le parole a percepire un discorso diciamo completo ecco bene dottore perché è importante curare precocemente la sordità appunto nell'anziano ecco è importante innanzitutto capire quelli che sono questi sintomi di esordio che devono costituire un po' un campanello d'allarme d'allarme e che molto spesso vengono sottovalutati o misconosciuti uno un soggetto di quell'età non si sente malato e non è malato intendiamoci ha soltanto un decadimento di quelle che sono le funzioni sia uditive dell'orecchio e sia soprattutto delle funzioni cerebrali e quindi che cosa fa? Tende ad isolarsi tende ad isolarsi tende a non avere più rapporti sociali con le persone tende a rinchiudersi in se stesso vedete ci sono anche degli studi scientifici che parlano addirittura che l'insorgenza di una sordità di un'ipoacusia di questo genere nel soggetto anziano può aggravare o contribuire negativamente nei riguardi di una demenza e ci sono degli studi scientifici ben articolati e ben dimostrati intendiamoci non voglio essere frainteso non significa questo che il sordo è demente assolutamente non voglio dire questo però l'udito che come sappiamo tutti è uno dei cinque sensi e che consente soprattutto insieme alla vista e l'udito che consentono di farci rapportare con il mondo esterno nel momento in cui incominciano a dare dei segnali a vuoto queste capacità di rapportarsi con il mondo esterno vengono meno e quindi ripeto il soggetto si chiude in se stesso tende ad avere meno contatti sociali spesso con i propri familiari perché non partecipano alle discussioni addirittura diventano io questo lo vedo frequentemente diventano sospettosi si insorgono dei litigi delle diatribe fra marito e moglie di una certa età perché non comprendendo quello che si dice gli astanti dicono il soggetto pensa che viene detto qualcosa contro di lui quindi anche di fraintendimenti il dottore praticamente fraintendimenti e quindi tende diciamo a diventare sospettoso e quasi a distaccarsi sempre di più dal mondo dal mondo anche esterno ecco che è importante riconoscere questi segnali d'allarme che non vanno sottovalutati assolutamente bene dottore se non vi è nient'altro da aggiungere se posso ancora qualche altro minuto perché ecco in medicina dopo la diagnosi si fa la terapia la terapia quindi facciamo un brevissimo cenno anche a quelli che sono i rimedi che si possono si possono attuare attuare i rimedi possono essere quindi chiarito il congetto che bisogna essere precoci nella diagnosi bisogna affrontare il problema ci sono possibilità terapeutiche svariate dalla terapia medica alla terapia chirurgica ma soprattutto parlando di presbiacusia la terapia consiste nell'applicazione di una protesi acustica è bene dire che le protesi acustiche moderne sono molto più efficaci molto più efficiente rispetto a quelle di una volta e che consentono diciamo di riabilitare questo canale uditivo e quindi porre rimedio a questi sintomi a cui abbiamo appena accennato a proposito sempre di protesi acustiche è bene dire alcune cosettine la protesi acustica deve essere personalizzata nel senso che deve essere applicata da un tecnico che si chiama un audioprotesista che sono i tecnici che applicano la protesi acustica e richiede un certo periodo di training nel senso che il soggetto portatore di protesi deve allenarsi e la stessa protesi deve essere tarata a step successivi cioè nel senso non è come un paio di occhiali che uno mette agli occhiali e è finita lì no la protesi deve essere individualizzata e personalizzata si possono verificare degli inconvenienti nei portatori di protesi acustica uno dei più comuni è il cosiddetto fischio la protesi acustica fischia che significa quando la protesi acustica fischia vuol dire che la chiocciolina cioè quella piccola oliva che viene introdotta nel canale uditivo esterno non è a perfetta tenuta quindi il suono viene ricaptato dal microfono e viene amplificato è il cosiddetto fenomeno di feedback acustico va bene quindi se c'è il famoso fischio nella protesi acustica cosa bisogna fare bisogna recarsi immediatamente dal tecnico audio protesista farsi controllare ed eventualmente sostituire la chiocciolina perché non è più idonea al contatto col canale uditivo esterno bene io ringrazio il dottor Nicola Tricarico per essere stato qui con noi negli studi televisivi di TV Gargano e naturalmente di averci illuminati con la sua esperienza in merito all'argomento uno dei tanti che naturalmente ha trattato legati alla sua lunga esperienza in materia e con il qui presente professionista rivolgo ed estendo un ringraziamento a tutti i telespettatori e telespettatrici che hanno seguito questo appuntamento di TV Gargano Salute con cui naturalmente io vi do appuntamento alla prossima settimana grazie a voi grazie a voi grazie grazie a lei grazie a tutti e buona serata dottor grazie a tutti grazie a tutti